Sheldon, il fatto che tu abbia un'ossessione quasi psicotica per l'igiene non implica che io debba parteciparvi? E va bene. Qual è il tuo prezzo? Baciami dove non sono mai stata baciata. Vuoi dire a Salt Lake City? Lascio perdere, parlerò con Penny. Grazie. Ora vuoi ascoltarmi suonare l'arpa? No, non riesco a sopportare il suono dell'arpa. Il suo utilizzo eccessivo nelle sitcom televisive classiche mi fa sempre sentire come se stessi per rivivere un episodio del mio passato. Mi dispiace mamma, non ti arrabbiare con me. Non farlo, ho detto.